Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, bonifiche e siti di interesse nazionale di questo importantissimo argomento, ci occupiamo oggi nella nostra copertina, l'approfondimento nel servizio che segue. Riperimetrazione del sito di interesse nazionale nella vasta area industriale di Gela, è questo uno degli obiettivi principali perseguiti dall'amministrazione comunale guidata da Domenico Messinese. Si tratta di un passaggio fondamentale in tema di bonifiche, bonifiche cui progetti negli anni hanno viaggiato su e giù da Roma a Palermo per restare impolverati su qualche tavolo. Oggi il tema delle bonifiche è sentito e suscita profondo interesse da parte di tutte le forze sociali che chiedono a gran voce che vengano avviate. L'assessore a Ramo, Simone Siciliano. Questa è un'attività importante perché di fatti le aree sinne censite al ministero riguardano l'area a mare, 47 km quadrati di area a mare, e l'area all'interno della raffineria di Rage. Mentre erano state escluse dalle attività di perimetrazione tutte quelle attività che riguardano Enimed, cioè gli oleodotti, i pozzi e i centrioli. Stiamo parlando di attività importanti che si estendono su tutta la piana di Gela, basta considerare che si parli di 80 pozzi, 60 km lineari di oleodotti e diversi centrioli. Questa attività per noi è partita già nel periodo estivo con una concertazione da parte dell'amministrazione, con la regione, il ministero ed Enimed, affinché si arrivasse ad una cartina, ad una topografia di qual era l'area da riperimetrare. E' una cartina che noi poi abbiamo portato al ministero per chiedere di avviare con insistenza le attività per fare la riperimetrazione. All'interno di questa riperimetrazione c'è anche la verifica delle aree a mare. Chiaramente spieghiamo che tutte le aree che rientrano all'interno del perimetro dell'area sinne hanno dei vantaggi notevoli. I vantaggi sono legati al fatto che essendo sito di interesse nazionale godono di un'attenzione particolare per i processi di bonifica. O meglio, godrebbero di interesse particolari. Sta di fatto che poi l'amministrazione deve rendersi parte attiva per accelerarli. Ed è quello che ha fatto questa amministrazione. Le aree che rimarranno escluse non saranno bonificate? No, in realtà non è quello. E' semplicemente il fatto che le aree escluse poi per essere bonificate hanno bisogno di risorse economiche. Queste risorse economiche, se sono aree all'interno dell'area sinne, ricadono in ambito statale. Se non sono in area sinne, ricadono in ambito regionale. Più vasta è quest'area, maggiori probabilità ci sono di bonificare con fondi statali. Esattamente. Bando di selezione per tre operatori socioassistenziali di sesso femminile. Lo ha indetto il primo circolo didattico di Gela, diretto da Adriana Quattroocchi. Le domande devono essere presentate entro le ore 12.30 del 31 dicembre prossimo. Non farà fede il timbro postale. Per informazioni 0933 90 11 34. Conclusi i corsi zero di Greco Antico e Liceo Classico Eschilo di Gela. Circa 90 studenti di terza media hanno frequentato il percorso formativo. Vediamo. Nell'era 2.0 in cui i nativi digitali maneggiano con naturalezza ogni strumento innovativo, ci sono a Gela molti giovanissimi che frequentano la terza media e che in questi mesi dovranno scegliere come continuare il loro percorso formativo, che decidono di frequentare corsi zero di Greco Antico organizzati dal Liceo Classico Eschilo di Gela, diretto da Gioacchino Pellitteri. Quest'anno per la prima volta abbiamo attivato i corsi zero per le conoscenze di base di Greco Antico, con i quali ci proponiamo di divulgare presso i giovani delle scuole secondarie di primo grado la conoscenza della lingua greca, non come fine ma come mezzo per accedere alla conoscenza delle nostre origini e delle origini della cultura occidentale. Noi speravamo in un riscontro positivo ma in realtà abbiamo avuto un apprezzamento al di sopra delle nostre aspettative perché abbiamo già cinque corsi, cinque classi formate che attualmente appunto frequentano, questa attività che si propone di insegnare, di dare una conoscenza di base attraverso metodi dinamici e naturali del Greco Antico. I ragazzi hanno subito manifestato grande interesse tant'è che questi giovani che stasera sono qua hanno espressamente richiesto, hanno espresso il loro desiderio loro stessi appunto di partecipare e di fare quest'altra lezione prima delle vacanze e poi appunto proseguiremo con altre lezioni a gennaio sia mie sia di altri quattro docenti del liceo classico. Io ho scelto di fare questa esperienza proprio perché mi aveva incuriosito. Quando diciamo ci hanno presentato questi volantini, io subito mi sono incuriosita e appena poi ho incominciato a frequentare ho capito che è stata un'esperienza veramente molto bella perché l'ho frequentata anche perché volevo conoscere diciamo l'ambiente delle superiori e anche i professori, il modo di approcciarsi con gli alunni. Questo corso è veramente molto istruttivo e lo consiglio a tutti. Il corso ha la durata di dieci ore e rappresenta un primo approccio al Greco Antico in cui si spiegano i primi elementi sul senso della lingua e della cultura greca. Infinitamente donna è la denominazione di una mostra che sarà allestita al Museo archeologico regionale di Gela su iniziativa del Soroptimist Club di Gela presieduto da Maria Grazia Falconeri e curata dall'archeologo Angelo Mondo. Il taglio del nastro è previsto per oggi alle 18, saranno esposti i reperti archeologici esclusivamente al femminile. Monili e statue catalogate dall'archeologo gelese che racconterà la condizione femminile del mondo greco. Il Natale nei presepi e nell'arte. Il tema della mostra promossa dal comitato di quartiere Macchitella a Gela con il centro di cultura e spiritualità cristiana Salvatore Zuppardo e il patrocinio dell'assessorata alla cultura del comune di Gela. Oggi alle 19, inaugurazione presso il centro congressi di Macchitella. Alla presenza del sindaco Domenico Messinese e degli artisti che espongono. La mostra rimarrà aperta fino a mercoledì 30 dicembre prossimo tutti i giorni dalle 16 alle 21. Adesso ci occupiamo di altre iniziative che riguardano ancora il Natale. Una commedia musicale con 25 artisti sul palcoscenico e il progetto promosso dall'associazione Il Giardino delle Muse che sarà portato in scena domani sera al Teatro Eschilo di Gela. Ne abbiamo parlato con i protagonisti. Sentiamo. Arriva al Teatro Eschilo di Gela domani sera la commedia musicale Incanto di Natale. È una rivisitazione in chiave comica e moderna addirittura di un'opera di Dickens? Sì, è la rivisitazione di The Christmas Carol di Dickens. Una commedia diciamo alla portata di tutti, di tutte le fasce di età e di status sociale. Abbiamo deciso insieme a Orazio di proporre questa commedia proprio perché vogliamo passare una serata dopo tante preoccupazioni e situazioni che sono accadute da qualche giorno oggi gravi. Vogliamo passare una serata in allegria. Qual è la trama? È la storia di un vecchio taccagno, uno spilorcio, un vecchio inglese che ha perso lo spirito del Natale e con l'aiuto appunto di tre spiriti che gli faranno fare un viaggio nel tempo ritroverà il tanto perduto spirito del Natale. Orazio, i componenti del cast sono addirittura 25, tra cantanti, attori, musicisti e ballerini, una grande organizzazione. Sì, questa volta abbiamo voluto superare noi stessi. Voglio ringraziare soprattutto i Jowl Rock Band. Sono un gruppo nati da poco. Bisogna dare un po' di visibilità anche a chi non ne ha mai avuta. Infatti nel cast siamo forse due o tre quelli che già conosce. E la cosa importante è proprio dare spazio a chi proprio non ne ha mai avuto e soprattutto chi ha le prime armi. Quindi noi che abbiamo esperienza è giusto dare del nostro a chi non ne ha mai fatta. Quindi un modo insomma anche per mettersi in gioco, per vivere un'esperienza condivisa di emozioni. Diamo l'appuntamento a tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa perché l'ingresso è libero, assolutamente gratuito. Ricordiamo l'orario e il luogo. Quindi domani sera al Teatro Eschilo, ore 21, ingresso gratuito. Vi aspettiamo numerosi insomma per quello che il teatro può ospitare. E' stato allestito nella piazza San Francesco il presepe realizzato dalla parrocchia San Francesco da Sisi con la collaborazione dei giovani del Movimento Giovanile e del gruppo archeologici Triskelion. Il presepe che è composto da elementi ad altezza uomo di matrice napoletana potrà essere visitato tutti i giorni fino al 6 gennaio prossimo. Concerto swing e jazz domani al Museo archeologico regionale di Gela con Samuele Mammano. Sentiamo. Torna a Gela Samuele Mammano. Torna con un concerto. Domani un appuntamento importante con musica natalizia presso il Museo archeologico regionale di Gela. Sì esattamente. Faremo un concerto alle ore 19.30. È preciso che l'ingresso sarà gratuito. Il concerto avrà come titolo Christmas in swing. La formazione sarà insieme a Rocco Mammano al pianoforte, alla batteria Ruben Mammano che è ieri esordito, domenica, domenica pomeriggio esordito al Tropico Med. Al contrabbasso Iseia Mammano e ai synth e tastiere Alessandro Salsetta, il pianista con cui sono stato in Giappone. Proporremo un repertorio prettamente natalizio, tutto riarrangiato in chiave swing e jazz. Cercheremo di farci gli auguri tutti insieme, sperando in un anno pieno di soddisfazioni e soprattutto augurando a questa città una ripresa. Samuel, a proposito di questo 2015 che sta per concludersi, che bilancio è per te? Il bilancio è positivo. C'è stato un anno impegnativo, nello stesso tempo entusiasmante. Abbiamo suonato tanto con tanti musicisti, tante collaborazioni. Sono soddisfatto. L'anno nuovo ci saranno tante novità, che non svelo, però posso dire che tornerò nuovamente all'estero e quindi vi farò sapere. La tua vita è sempre molto movimentata. Intanto ti godi questi giorni qui a casa, anche con la famiglia e la musica è sempre con te. Sì, esattamente. Questo non può imbancare. Come si dice, Natale con i tuoi. Quindi di conseguenza non suoneremo solo qui a Gela, con l'anno nuovo suoneremo anche a Vittoria, a Mazzarino e Catania. E basta. In bocca al lupo, allora. Rinnoviamo l'appuntamento per domani. Ok. Ore 19.30 presso il Museo archeologico di Gela. Samuole Mammano Quindet. Non mancate. Dal 4 gennaio prossimo la sede di Casa Artigiani del Golfo sarà trasferita nella nuova sede di via Ettore Romagnoli al numero 60. Il numero di telefono è il seguente 0933 82 25 04. Ci fermiamo. C'è la pubblicità. Torniamo tra poco. Restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. La comunità di Sant'Egidio di Gela anche quest'anno festeggia il Natale presso la Casa Maria Antonietta Aldisio. Il Natale è un po' un miracolo. È il miracolo dei volti sorridenti di tante persone oppresse dalla fatica della vita. È il miracolo di scoprirsi utili di tanti a cui non manca nulla ma che hanno perso il senso profondo della festa. Lo scrivono i responsabili della stessa comunità Sant'Egidio di Gela, Selenia Laspina e Giusi Lobiundo. Il Natale è anche il miracolo di risorse che sembrano non esserci e che invece si possono mobilitare coinvolgendo attorno a questa festa chiunque voglia fare qualcosa, anche un piccolo gesto per gli altri, almeno una volta all'anno. La comunità di Sant'Egidio trascorrerà con gli amici anziani un momento di vera gioia. Oggi alle 16 celebrazione eucaristica preseduta da padre Francesco Callea e la partecipazione straordinaria del coro Promise Land Gospel Cioir e infine cena comunitaria con i tradizionali regali di Natale. Continuano ancora le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio promosso dal Comune di Gela fino al 6 gennaio nei locali di Palazzo Ducale. Mostra dei presepi vita di Gesù di Francesco Bonvissuto fino al 10 gennaio patinaggio su ghiaccio e venti mostra di presepi albero della vita nel piazzale della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale sempre fino al 6 gennaio nel Palazzo Regina Margherita presepi artistici. Seconda mostra dei presepi, presepi in comune realizzata dalle scuole locali e promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. Potrà essere visitata a Palazzo di Città fino al 6 gennaio. Previsti intrattenimento e degustazioni, l'ingresso è libero dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. La cerimonia di chiusura dell'evento è prevista per mercoledì 6 gennaio alle ore 17.30. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Misericordia. Lo ha annunciato il Vescovo Monsignor Rosario Gisana a Gela il 6 gennaio presso la Piccola Casa della Misericordia e a Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Continuano gli appuntamenti col Grande Giazza al Teatro Comunale Eschilo di Gela venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21.00. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20.00. Per informazioni 0933 911 892 oppure 345 5880 580. Stagione teatrale di Cavare 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino e Ernesto Maria Ponte, lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino. Canti e musica natalizie ieri al Teatro Eschilo di Gela con la FARC a favore dei malati oncologici. C'eravamo anche noi, vediamo. E' andato in scena ieri al Teatro Eschilo di Gela il gran concerto di Natale denominato Il Mondo che Vorrei su iniziativa della FARC coordinata a Gela d'Angela Lobello in collaborazione con i giovani dell'Oratorio Salesiano. L'evento culturale è stata preziosa occasione di socializzazione dedicata ai malati oncologici e alle loro famiglie per vivere insieme la magia natalizia. Questa appunto è la FARC, l'associazione di volontariato che opera in oncologia. Questo è il quarto anno che noi facciamo uno spettacolo di Natale per augurare un buon Natale ai tutti i pazienti oncologici e anche allo staff di oncologia per il lavoro grande che facciamo assieme perché ormai da un po' di anni siamo una squadra e diciamo anche una squadra vincente perché oggi è Gela, veramente si può parlare di tumore, si può parlare di cultura e questa è una delle grandi dimostrazioni che comunque qualcosa di concreto si fa. Tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare, lo hanno comunicato i padri agostiniani. Infine siamo all'informazione cinematografica, il Cineteatro Antidoto è in proiezione il nuovo film Babbo Natale non viene da nord, questi sono gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo 17.30, 19.30 e 21.30. Lunedì 28 dicembre alle 21 la compagnia teatrale Antidoto porterà in scena Nabrisco la Commedia in tre atti di Tiziana Guarneri, la regia affidata a Giancarlo Bella. Con il cinema e lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione, vi ricordiamo che servizi e notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato, grazie, arrivederci. Grazie a tutti.